Stai ristrando? Aspetta, vai! Ciao a tutti, sono Fabio. Sono Simone. Sono Giorgia. Sono Ilaria. Sono Elisa. Sono Alice. Sono Matteo. Sono Chiara. Sono Margherita. Ciao Elisa. Sono Sofia. Sono Lawrence, attualmente vivendo il mio anno all'estero in Russia. Adesso abito a Montreal, in Quebec. Sto trascorrendo il mio anno all'estero in Giappone. Sono qui in Repubblica Teca da poco più di un mese. Sto trascorrendo il mio anno negli Stati Uniti, in North Carolina. Sono qua da circa due mesi e sto facendo questo video per invitarvi a documentarvi su Intercultura. Non posso fare altro che consigliarvi questa bellissima e unica esperienza perché è davvero qualcosa di fantastica ed è soprattutto una fortuna. Secondo me l'esperienza con Intercultura inizia in un momento in cui ti iscrivi e ti metti in gioco perché alla fine è questo che fa Intercultura, mettere in gioco te stessa e il tuo modo di pensare. Grazie a Intercultura avrete la possibilità di intraprendere, di affrontare, di vivere l'esperienza più bella probabilmente della vostra vita. Troverete delle persone che vi aiuteranno nella formazione iniziale e questo vi servirà durante tutta l'esperienza. A tutti voi exchange student, provateci perché è un'esperienza che vi cambierà la vita, vi cambierà il modo di vedere le cose, vi cambierà tutto. Vi apriamo la mente a un mondo diverso e adattarvi meglio a tutte le situazioni in cui vi troverete davanti. Vi fa uscire da quel blocco mentale e vi fa vedere il mondo da un'altra persettiva. Provare a uscire dalla vostra comfort zone perché solo così potrete imparare. Vi invito a fare l'anno all'estero con Intercultura perché come associazione è molto presente ed è molto sicura. In generale vi invito a fare la selezione per fare l'anno fuori perché è veramente una buona esperienza. Quindi partecipate alle selezioni della vostra cittadina di Intercultura. Se avete una decente media scolastica potreste provare a vincere una borsa di studio. Non perdete questa occasione, andate ad iscrivervi subito e fate le selezioni. Se siete interessati a scoprire il nuovo paese, a conoscere una nuova cultura e a parlare una nuova lingua, Intercultura è quello che fa per voi. Iscrivetevi alle selezioni e buona fortuna. E non importa dove, ma l'importante è partire. Ahoi! Questa è la mia famiglia. Lei è mia sorella. Grazie Alice. Spero fare la lezione. Per voi? Iscrivetevi a...